. Sempre in prima fila quando si tratta di beneficenza, George Clooney non si è tirato indietro appena saputo che nove cuccioli di cane erano stati abbandonati in una discarica, in California L'attore e sua moglie Amala hanno donato 10.000 dollari al Camille che li ha ritrovati e che se ne sta prendendo cura . A farlo sapere lo stesso Camille, il camp broker rescue che ha condiviso la notizia sulla sua pagina social George e Amal, che sono in attesa di diventare genitori di due gemelli, hanno dato il permesso di svelare i loro nomi per incentivare le persone a fare una donazione . 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